Benvenuti a Radio Blog Australia, sono Cristina Marras e qui con me la dottoressa Patrizia Berli Lombardi, ex docente di italianistica, docente di tecnica dell'interpretariato, interprete, traduttrice, giornalista, ma qui per noi oggi esperta di uoghese, che, lo ripetiamo per gli ascoltatori che avessero perso la prima puntata di questi cenni di uoghese, è quella lingua che si è venuta a creare mischiando l'italiano e l'inglese. Ma cedo subito il microfono a Patrizia che ci parlerà oggi dei nomi in uoghese. Per chi appunto, per chi avesse perso la prima chiamiamola lezione, sono abituata a insegnare, quindi istintivamente do quello che dico, la forma di una lezione. La volta scorsa, parlando del più e del meno, mi è venuto in mente, questi sono i verbi, e i verbi dall'italiano al uoghese prendono semplicemente l'are dopo il verbo di tipo inglese, perché qualche volta sono solo ad orecchio verbi inglesi. Un esempio per tutti è che da un lato abbiamo un verbo come to stop, che diventa fermarsi, che in uoghese diventa stoppare, e non stopparsi, notare perché il riflessivo poi è tutto un altro discorso che faremo un'altra volta, e verbi invece completamente inventati come traviare, che sì esistono in italiano e che hanno un significato di corrompere, portare sulla strada sbagliata, e che in uoghese vuol dire semplicemente viaggiare, perché to travel in inglese è viaggiare. Per quanto riguarda invece l'uso dei nomi in questa strana lingua che è il uoghese, ci sono diversi fenomeni interessanti, per alcuni nomi si va a orecchio nella creazione, per altri nomi bisogna comunque usare questa lingua nuova, perché nella nostra esperienza italiana questi oggetti d'uso comune qui in Australia, in Italia non erano nel nostro uso comune. Un esempio classico è quello del recinto di ogni giardino, il recinto che divide le proprietà, le case e i giardini le une dalle altre, e qui in Australia si vive quasi tutti in case circondate da giardini, il recinto qui si chiama fence, quindi il recinto notare maschile è diventato la fensa, grande mistero del perché dal maschile si è passato al femminile, e quindi c'è anche questa trasformazione di genere che è interessante. Oltre la fensa poi c'è comunque l'abitudine di mettere la vocale A in fondo alla parola inglese, una classica è la k di tè, cioè una tazza di tè, dato che in inglese tazza è cup, e fin qui si sente bene che queste parole vengono dall'inglese, poi ci sono quelle che si prendono la A, ma hanno un'assonanza con delle parole italiane che vogliono dire tutt'altra cosa, come si era fatto notare nel caso dei verbi. Se io dico a qualcuno dammi una bega, e devo confessare la prima volta che l'ho sentito dire sono rimasta a bocca aperta e senza fiato perché non sapevo cosa volessero dire, vuol dire semplicemente prendimi un sacchetto o di carta o di plastica e dammelo, perché in inglese un sacchetto di plastica o di carta si dice bag, quindi aggiungendoci la diventa una bega, semplicissimo. Poi ci sono altri esempi invece in cui si aggiunge la desinenza O, perché ci si riferisce ad una professione di solito svolta dagli uomini. E allora mi sono sentita dire da signore che il proprio figlio faceva il ruffiano o faceva il barrista. Perché? Perché il tetto di una casa si chiama roof in inglese, quindi nel vuoghese è diventato il ruffo, colui che ripara i tetti è diventato il ruffiano. Barrister è il penalista, l'avvocato, il patrocinatore che va in tribunale per spiegarvi e in questa cultura va in tribunale con la toga e con il parrucchino stile 700 che fa un po' impressione se ci pensiamo bene. Comunque questo tipo di professione qui si chiama barrister. Per la signora che parla questa lingua intermedia, il figlio che è studiato ed è diventato avvocato patrocinatore è diventato un barrista con le due R. Ma all'inizio quando te lo dice, tu le due R non le senti e dici ma perché questa signora è così orgogliosa della carriera di suo figlio? Sì va bene ha fatto il barista, ma baristi ce ne sono tanti. Invece di avvocati patrocinatori a quel livello la categoria si restringe un po' e capisco anche perché si possa essere orgogliosi di un figlio che ha fatto questa carriera. E quindi come potete vedere ci sono tante possibilità di espandere questa lingua. Grazie a Patrizia Belli Lombardi per questa bellissima lezione di Woghese.